buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini il traffico si sta intensificando in a 11 in direzione firenze tra prato ovest e l'allacciamento con la 1 e tra sesto fiorentino e peretola e in fippi lì tra la strassigna e scandici sempre in direzione firenze sulla strada provinciale 8 militare per barberino senso unico alternato per restringimento di carreggiata tra chilometri 6 e 200 e 6 e 324 nel comune di calenzano fino a domani per la viabilità cittadina firenze sul ponte vespucci lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra arriva anche la pista ciclabile muoversi in toscana è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti